Buongiorno di notte, siamo ancora qua a San Marino in diretta con il secondo sac classificato Marco Magellari e niente, innanzitutto detiene il record dell'essere il giocatore più giovane a vincitore del Sunday Special quindi complimenti per questo e poi ovviamente per la seconda posizione perché è un ottimo risultato bravissimo, quindi a questo punto essendo così giovane ti inizio a chiedere da che età che giochi a poker? dai 18 anni, l'età minima legale per giocare ecco quindi iniziato subito, appena hai potuto e senti, ti è piaciuto più e comunque adesso giochi più live oppure online, cosa preferisci? al momento gioco più online però dipende dai periodi ok, per quanto riguarda questo live che è il primo evento live di AnthonyPoker.it cosa ti è piaciuto, i punti di forza? innanzitutto la struttura del torneo che è stupenda, il rapporto al buy-in ok, quindi facciamo i complimenti a Anthony complimenti a Anthony e a tutti gli organizzatori la struttura non è mai crollata, neanche le zap finali è giocabilissimo quindi il torneo è sicuramente consigliabile quindi l'ascesa è stata continua, dai e poi un segreto per appunto diventare un giocatore abile come te? oddio, un segreto, domanda difficile abilità, il poker abilità oppure magari anche fortuna, cos'è di più? nel torneo singolo conta molto anche la fortuna però nel lungo periodo avrei anzio di una battuta quindi anche un po' di tecnica diciamo che sia essenziale benissimo e niente, ti ringraziamo sei stato molto bravo, complimenti ancora e il prossimo poker event live ti troveremo? certamente ecco, di sicuro sempre nel podio speriamo bocca al lupo, grazie Marco